Juventus. Trattativa lampo per McAllister. Superata l'Inter. Il centrocampista argentino ha colpito Allegri durante il Mondiale. La Juventus balza in pole position per Alexis McAllister. Centrocampista del Brighton che si è messo in luce al Mondiale in Qatar. Massimiliano Allegri sarebbe rimasto molto colpito dalle qualità del classe 1998. Che ha disputato sei partite in Coppa del Mondo, rivelandosi un elemento chiave per la conquista del titolo iridato da parte della formazione di scaloni. Secondo la Gazzetta dello Sport. La Juventus avrebbe già strappato il sì del giocatore. Che avrebbe definito i bianconeri come una squadra, straordinaria. E ne avrebbe già parlato con i familiari. La Juve avrebbe superato la concorrenza dell'Inter. Accostata al giocatore nei giorni scorsi. Per il via libero definitivo servirà però la cessione di un centrocampista. Più che Rabiot in partenza a gennaio ci sarebbe Weston McKennie. Che piace a diversi club inglesi e potrebbe andarsene a buon prezzo. Soldi che sarebbero subito reinvestiti per arrivare a McAllister. Che il Brighton non vuole cedere per meno di 40 milioni di euro.